Buona domenica a tutti e a tutte, grazie per essere qui appunto di domenica mattina per questo incontro che mi fa molto piacere introdurre. Io sono Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista e appunto sono molto felice di coordinare non solo per l'interesse e la competenza degli ospiti con cui ci confrontiamo oggi, ma anche perché questo incontro che è appunto organizzato in collaborazione con Pandora Rivista fa parte di uno scambio di cui ringrazio molto Biennale Democrazia e Massimo Cuono in particolare con il nostro festival che si svolge a Bologna ogni anno a ottobre e nell'ultima edizione si è tenuto un incontro con un dialogo tra Romano Prodi e Gustavo Zagrebreschi, moderato da Francesca Schianchi sulle sfide alla democrazia e questo in un qualche modo è l'altra metà dello scambio. Il tema appunto l'avete visto, il mondo attraverso le lenti dell'informazione, parliamo di questo tema con due ospiti che conoscete bene, Cecilia Sala che qui probabilmente avete familiarità per il podcast Stories di cui è voce e autrice per Cora Media, ma Cecilia Sala scrive anche per Il Foglio, ha collaborato con numerose testate tra cui l'Espresso e Vanity Fair, ha lavorato per la televisione ad esempio per 8.5, SkyTG24, per la RAI ed è anche autrice insieme a Chiara Lalli del podcast Polvere che è diventato anche un libro per Mondadori, Strade Blu. Simone Pieranni è uno dei pochi giornalisti italiani esperti di Cina, sono effettivamente appunto pochi perché appunto si tratta di un paese complesso, sfaccettato, ha fondato nel 2008 l'agenzia editoriale China Files, ha scritto a lungo per il manifesto e adesso lavora per Cora Media per cui cura tra le altre cose il podcast altri orienti, oltre anche ad essere in redazione di Stories. Ha scritto diversi libri tra cui sulla Cina ricordo Red Mirror e la Cina Nuova, entrambi per la terza. Si tratta quindi di due voci giornalistiche, scusatemi diciamo per la voce che come sentite non è ottimale ma purtroppo diciamo, quindi si tratta di due voci giornalistiche che hanno una profonda conoscenza e portano avanti un approfondimento riguardo ad aree che sono cruciali per i cambiamenti che stiamo affrontando. Nel dibattito di oggi cercheremo appunto di ragionare su alcuni di questi cambiamenti, a partire anche da i podcast ma non solo che sono curati dai nostri due ospiti e partiremo anche nell'analisi di questi cambiamenti dal concetto di libertà che è il titolo a questa edizione della Biennale Democrazia e contemporaneamente ragioneremo anche sul racconto appunto di questo mondo in profonda evoluzione. Ecco quindi io inizierei subito partendo appunto da Cecilia. Ecco Stories ha già compiuto abbondantemente un anno, è iniziato appunto a gennaio 2022, ci stiamo avvicinando alla trecentesima puntata quindi ormai c'è un archivio importante appunto di storie, una storia dal mondo ogni giorno, di storie molto diverse come chissà chi lo ascolta, storie che hanno a che fare con fatti, avvenimenti, personaggi, situazioni appunto di paesi del mondo, vicende biografiche, quindi appunto tante storie ma queste storie al tempo stesso fotografano, sono un po' come un mosaico, no? Di immagini, di tessere che rappresentano una realtà in evoluzione, quindi naturalmente ci sono anche molti fili che collegano queste storie e quindi io per iniziare appunto chiederei a Cecilia di fare alcuni esempi appunto di questi fili che possono essere particolarmente significativi per vedere alcune delle direttrici di evoluzione di questa realtà che sta cambiando. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie Giacomo, buongiorno a tutti. Sì, è stato un primo anno di Stories condizionato come sarà anche il secondo, il terzo, il quarto dagli eventi del mondo, ce n'è uno che ci riguarda che è sconvolgente e particolarmente vicino che è ovviamente la guerra in Ucraina. Non è stato l'unico grande evento quest'anno che ha profondamente a che fare con la parola che è al centro di questa edizione di Biennale Democrazia, cioè libertà. Un altro tema che abbiamo messo al centro di questo primo anno di Stories sono state le proteste in Iran. Libertà è evidente il legame con le proteste in Iran, lo è anche per me con la guerra in Ucraina il dibattito sulla guerra, come forse inevitabile, dopo che sono passate i giorni, le settimane e poi i mesi, si è un po' inaridito fino a perdere il senso, il nocciolo della questione. Stiamo parlando di tattiche militari, di quanto è strategica o meno Bakhmut, di delle armi tattiche nucleari che Putin annuncia di voler posizionare in Bielorussia, di calcoli che ci fanno un po' perdere di vista qual è stata la ragione profonda, perché l'Ucraina è ancora in piedi, perché Kiev è ancora libera, perché non è caduta nelle prime 48 o 72 ore come prevedeva il Cremlino e allo stesso modo come prevedeva il Pentagono e come probabilmente ci aspettavamo tutti noi. E nel capire questo invece ecco appunto il tema, la parola libertà c'entra moltissimo. In Ucraina c'è stata una rivoluzione che forse è stata l'ultima rivoluzione riuscita in Europa nel 2014, una rivoluzione relativamente poco raccontata perché ha una parola al centro, in quel caso Euromaidan, cioè è una richiesta di avvicinamento all'Unione Europea e di allontanamento dall'orbita di Mosca e del Cremlino, che è particolarmente forte nell'ovest dell'Ucraina e non in tutta l'Ucraina, è fortissimo nella capitale a Kiev, è un movimento molto giovane, è un movimento anche violento perché la reazione delle autorità è violenta. E la prima cosa che io mi sono sentita dire a Kiev nella prima trasferta di stories che è stata alla fine di gennaio 2022, quando l'invasione non era ancora cominciata, probabilmente molti di noi la consideravano un'ipotesi ancora irrealistica anche a poche settimane dal giorno, dal 24 febbraio in cui i carri armati russi avrebbero varcato i confini e i ventenni ucraini di Kiev, quello che mi dicevano era noi una rivoluzione contro Putin, l'abbiamo già fatta. Voi ve ne siete accorti poco perché era un momento in cui noi parlavamo dell'Unione Europea in un modo in cui nessuno nell'Unione Europea parlava dell'Unione Europea. Cioè il 2014 erano gli anni in cui Bruxelles veniva criticata, veniva citata quasi solo per essere criticata, in cui i partiti anti-europei crescevano rapidamente nei sondaggi in cui si iniziava a vedere l'inizio appunto del Londra sovranista e anti-europeista. Quella rivoluzione qui è stata raccontata relativamente poco, ma ovviamente gli ucraini se la ricordavano benissimo e dicevano è da lì che dovete capire qual è la nostra forza, quali sono i nostri obiettivi e come reagiremo se, perché anche loro non lo sapevano ovviamente, l'invasione effettivamente ci sarà. E una frase che mi colpì era, non è una questione ideale, è estremamente concreto vivere secondo le regole diciamo di un governo, di uno Stato che in ultima istanza risponde alle regole dispotiche di Vladimir Putin o vivere secondo un percorso come quello che sta facendo la Georgia, dove ci sono state di recenti altre proteste incredibili con una costituzione come adesso quella ucraina che invece vuole ogni giorno di più nei suoi provvedimenti e nel suo percorso politico che è stato iniziato nel 2014 assomigliare alle libertà democratiche, alla democrazia liberale. E quindi il motivo di fondo per cui gli ucraini hanno resistito è molto legato a quella che è stata la tua introduzione e il tema di questa edizione. Grazie Cecilia e sicuramente su questo tema della libertà poi torneremo provando ad approfondirlo ulteriormente. Io adesso vorrei passare a Simone Piranni e chiedendogli, partendo anche qui invece dal podcast che lui segue, che cura appunto quindi altri orienti un nome che evoca una duplice idea, poi appunto ci racconterà quali sono anche le fonti, le radici alla base di questo nome, ne parlavamo prima. Però da un lato c'è sicuramente un'idea di una pluralità appunto di questo mondo in cui siamo di fronte a realtà diversissime, cioè la Cina ma pensiamo anche a un paese come l'India, il Giappone, la Corea, il Vietnam, tutte realtà che presentano appunto una cultura, un sistema politico, degli interessi, delle relazioni completamente diverse e rispetto a cui, e questo è il secondo tema, noi abbiamo una conoscenza limitatissima, praticamente nulla nel nostro dibattito pubblico, diciamo, se già, diciamo, si parla in maniera inadeguata di Cina, ha maggior ragione, diciamo, degli altri paesi, degli altri orienti si parla. Diciamo molto poco. Ecco, quindi, però appunto sono dei paesi, delle realtà che hanno un impatto importantissimo ovviamente e sempre crescente, diciamo, anche sulla, tra molte virgolette, nostra realtà. Quindi ti chiederei anche a te di fare qualche esempio appunto di fatti, episodi che magari hai avuto modo di raccontare appunto anche nel podcast, che ci interessano e ci devono interessare e che comunque, che ce ne interessiamo o non ce ne interessiamo, ci influenzano e, per far dare la nota frase, si interessano comunque di noi. Sì, buongiorno a tutti intanto, grazie Giacomo e grazie di essere qui. E allora, sì, provo a rispondere, se mi parte la tirata antigeopolitica, fermatemi a un certo punto, ok. E allora, intanto il nome, quando abbiamo cominciato a ragionare ancora su questo podcast, io avevo detto, sì, però non si è vietato utilizzare Oriente, vietato utilizzare Dragone, vietato utilizzare Elefante, Pechino Express, proprio, cioè, non provateci neanche a dirmelo. Poi alla fine ho scelto Altri Orienti, in realtà perché c'è un libro di Giorgio Manganelli che si chiama Cina e Altri Orienti, che è stato pubblicato nel 1974. Ora è difficilissimo riassumere Manganelli, perdonatemi se provo a farlo. Comunque, fondamentalmente, Manganelli va in Asia, non solo in Cina, e quando arriva dice, ah, però non è proprio come pensavo fosse, non corrisponde quello che sto vedendo a quella che è un po' l'immagine che l'Occidente ha costruito, proprio, sull'Oriente. E quindi mi piaceva utilizzare questo riferimento. Tra l'altro il libro esce nel 74, nel 78, quattro anni dopo esce Orientalismo, di Saeed, che proprio, come dire, analizza l'Orientalismo come un fenomeno politico-culturale, che non è tanto, quindi, un'analisi di quelli che sono i nostri pregiudizi, banalmente il pregiudizio principale su cui lavora Saeed è quello secondo il quale siamo talmente diversi che lo scontro è inevitabile, e se ci pensate, diciamo, riecheggia un po' anche oggi, basti pensare allo scontro Cina-Stati Uniti, ma anche la stessa Russia, se vogliamo, rientra in questo campo se la vediamo più da un punto di vista asiatico. Ma soprattutto Saeed mette in evidenza come l'Occidente abbia costruito, di fatto, un'idea di Oriente che ha funzionato per moltissimo tempo come lente attraverso la quale leggere le cose che accadevano in Asia. Ed è una lente che purtroppo funziona ancora adesso. Il tentativo del podcast, infatti, è quello di raccontare come gli asiatici vedono il mondo, cioè qual è la percezione delle popolazioni asiatiche e dei paesi asiatici rispetto agli eventi che accadono sul nostro pianeta, con il tentativo proprio un po' di sradicare questa visione che abbiamo noi, cioè leggere le cose asiatiche attraverso i nostri strumenti interpretativi della politica, della società e del comportamento, ad esempio, delle leadership o delle reazioni della popolazione a certi eventi, ci porta su una strada sbagliata, tendenzialmente ci porta a non comprendere in realtà quello che sta accadendo. Dall'altro, qui adesso arrivo alla geopolitica, abbiamo un po', soprattutto in tempi no di guerra, purtroppo, abbiamo una sorta di preponderanza di questa visione dei paesi come se fossero sempre uguali, fondamentalmente, come se avessero sempre le stesse aspirazioni e come se effettivamente si muovessero davvero in un risico gigantesco nel quale muovono i loro carri armatini. In realtà, quello che succede dentro ai paesi, quello che succede a livello sociale, i conflitti, le questioni che hanno a che vedere con il lavoro, con tutta una serie di ricerche di libertà, pensiamo solo alla questione femminile, che ad esempio in molti paesi asiatici è più che mai forte oggi, ci consente di capire come cambiano in realtà questi paesi e sulla base di come cambiano anche qual è la loro postura che assumono poi a livello internazionale. Per quanto riguarda l'impatto che hanno poi sulle nostre vite, è evidente che oggi siamo in un mondo che è completamente ribaltato da quello da cui siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, cioè non siamo più in un mondo nel quale noi siamo il primo mondo. Oggi in Asia, non solo a livello, diciamo, di quella che un tempo si chiamava accumulazione del capitale, nel senso che la ricchezza per lo più è lì, ma è diventato, diciamo, un continente che muove effettivamente i destini di altre parti del mondo in maniera piuttosto evidente. Pensiamo semplicemente ad esempio, per dire il primo esempio, la Cina in questi giorni, e ne abbiamo parlato anche a Stories, Cecilia ha fatto la puntata no su TikTok, ad esempio. Ecco, nel momento in cui TikTok venisse completamente bannato dagli Stati Uniti, per gli adolescenti statunitensi comunque è un cambio nella loro vita quotidiana piuttosto ampia, considerando che le generazioni più giovani non distinguono, anzi ritengono che la virtualità e la realtà siano la stessa identica cosa fondamentalmente, quindi già è un impatto, no? Chiaro, se TikTok verrà bannato, verrà bannato perché è cinese, al di là di quello che fa, che fa più o meno le stesse cose che fanno tutti i social sostanzialmente del mondo, anche quelli americani. Poi mi vengono in mente altre puntate, ah beh, una curiosità, abbiamo fatto due puntate sull'India, di cui si parla molto poco, io ho la fortuna che il coautore di Altri Orienti è Matteo Miavaldi, che è un esperto dell'India, e ad esempio abbiamo fatto la prima su questa lettura sbagliata che si fa sempre, abbiamo preso tutti gli audio praticamente dei leader che sono stati in India, non c'era ancora andata Meloni purtroppo, se no avremmo utilizzato anche il suo, e tutti i leader occidentali che vanno in India dicono siamo uguali, perché l'India è la più grande democrazia del mondo, noi siamo democratici uguali. In realtà l'India è sottoposta a un'estremizzazione politica fortissima da parte di Modi, che nel 2024 vincerà presumibilmente a mano in basse le elezioni, e è sull'orlo diciamo in realtà di un radicalismo politico etnico, perché è Hindu, il partito nazionalista Hindu, che si scatena principalmente contro la comunità musulmana, quindi attenzione quando assimiliamo in maniera così semplice. Infatti diciamo, più che la più grande democrazia del mondo, forse è la più grossa, nel senso che c'è un sacco di gente, anzi è una popolazione ormai che ha superato quella della Cina. Poi sempre sull'India mi ha particolarmente colpito una delle puntate che ho fatto con maggior piacere, che è quella della dinastia dei Gandhi, e quando è uscita la puntata poi molte persone mi hanno scritto dicendo ma io non sapevo che in realtà i Gandhi non c'entrassero niente col Mahatma Gandhi, perché effettivamente non c'entrano, cioè c'entrano ma non in linea parentale, sostanzialmente a un certo punto la figlia di Nehru, che è il padre diciamo dell'India indipendente, si sposa a un avvocato che si chiama Gandhi, ma che non c'entra niente con il Mahatma Gandhi, e addirittura le dicerie dicono che quel Gandhi, il suo marito, aveva la H in un'altra posizione, ma che lei l'ha cambiato, l'ha messo proprio come era quello del Mahatma Gandhi, e da lì parte la dinastia dei Gandhi che arriva fino a Rahul. Ecco, non si sa tanto bene, ha neanche queste vicissitudini, che pure segnano di fatto l'evoluzione politica dei paesi. Poi adesso stiamo preparando due puntate, una sul Bhutan e una sul Nepal, perché vogliamo affossare praticamente il podcast, e parleremo di paesi di cui neanche noi bene sappiamo, però abbiamo beccato delle persone che vivono lì da tanto tempo e ci spiegheranno com'è vivere in Bhutan e vivere in Nepal, ma abbiamo fatto anche una puntata sul Vietnam, di cui si parla sempre molto poco, che è considerata la piccola Cina, perché ha utilizzato un modello di sviluppo economico molto simile, ma perché ci riguarda? Perché ormai tutte le aziende stanno andando a investire in Vietnam per evitare le sanzioni americane sulla Cina, e perché anche la Cina stessa va lì. Solo che il Vietnam, nonostante la guerra che ha sofferto sul proprio territorio, è uno dei principali alleati degli Stati Uniti nell'area, è già questo, come dire, controintuitivo rispetto a quello che ci aspettiamo, e un altro paese di cui si parla poco, ma che ha un impatto bene o male, soprattutto oggi, a causa appunto degli equilibri, diciamo, dell'ordine mondiale liberale, sono le Filippine, che è un altro paese che è governato da tantissimo tempo da gruppi di famiglie, tant'è che in Asia si parla molto di chronic capitalism, cioè il capitalismo proprio gestitore di dinastie familiari, e adesso c'è un altro Marcos, che è il figlio di Ferdinando Marcos, il dittatore che conosciamo più o meno tutti, che anche lui ha una posizione adesso a livello internazionale sempre in bilico tra Cina e Stati Uniti, con le esercitazioni che ha fatto qualche settimana fa con gli Stati Uniti, però dall'altra parte deve in qualche modo sobbarcarsi la presenza incombente e ingombrante della Cina. Ovviamente la Cina è un po' l'elemento che fa da trade union, oggi come oggi tra tutti i paesi asiatici, e che mette in evidenza la vita degli altri paesi asiatici, mette in evidenza un po' la fallacia di un nostro assunto, cioè che i paesi asiatici, ad esempio, siano interessati a quello che succede dalle nostre parti. Abbiamo parlato prima, Cecilia ha parlato della guerra in Ucraina, ecco, per la maggior parte delle popolazioni asiatiche, oltre che per le leadership, è una guerra molto distante, europea, che quasi non interessa se non di riflesso per quelle che sono poi gli equilibri proprio dell'area, che ormai quasi vive a sé, non ha quasi più bisogno sostanzialmente di noi, e questo credo che, spero, mi auguro, che sia un invito principalmente, un po' come quando uno scrive un articolo, un invito poi a far sì che una persona poi cerchi dei propri percorsi anche di approfondimento, diciamo, su queste situazioni, e cominciare comunque a vedere l'Asia non come un insieme di paesi pedine, di fatto, della politica occidentale, ma come paesi con una propria autonomia e soprattutto appunto una propria visione del mondo, che va a mutare poi anche quelli che sono equilibri storici nello stesso continente. Grazie Simone, so che adesso siamo tutti impazienti di sapere tutto sul Bhutan e sul Nepal. E no, tra l'altro, una cosa, devo dire, da appassionato ascoltatore sia di Stories che di altri orienti, devo dire che è un piacere, diciamo, ascoltarli e sentire un po' l'eco appunto di puntate, ascoltate in precedenza, che è anche una cosa bella dei podcast, no, che c'è anche questo elemento un po' di sedimentazione, anche appunto in Stories, quando tu Cecilia racconti di questo, ne abbiamo già parlato nella puntata, X, se volete andatevela a risentire, è bello anche questo elemento di consuetudine che poi facilita anche l'accumulazione della conoscenza. Ecco, io adesso appunto ritornerei un po' sull'idea di libertà, no, che appunto, come ricordavamo, è il centro di questa edizione di Biennale. E in relazione proprio alla guerra in Ucraina, un po' ha introdotto l'argomento, però in un certo modo, appunto, fin dall'inizio in vari modi diversi, l'idea di libertà è stata un po' al centro di questo conflitto. Lo è stata perché chiaramente siamo di fronte alla difesa di un popolo rispetto appunto a un'aggressione, quindi alla difesa della propria libertà. Lo è a livello sistemico, in un qualche modo per il fatto che la guerra è stata presentata sotto, in alcuni momenti, sotto alcuni aspetti ed alcuni attori come uno scontro tra democrazie e autocrazie. E d'altra parte, però, anche la propaganda russa ha provato a presentare appunto la guerra o l'operazione militare speciale, come ci si riferiva ad essa, da quella parte come un tentativo di liberazione, appunto, di minoranze, popolazioni, o, d'altra parte, come uno scontro di civiltà, se vogliamo, contro un'idea occidentale di libertà presentata come non desiderabile, pensiamo alle cose che diceva il patriarca Kirill. Ecco, in che senso e fino a che punto questa guerra è una guerra, diciamo, intorno all'idea di libertà? Quanto pesa questo fattore ideale, se vogliamo, anche in relazione proprio allo svolgimento, diciamo, più materiale del conflitto? Pesa moltissimo. E c'è una questione, secondo me, che rende ancora più complicata sia la lettura che il racconto di questa guerra, che Putin, rispetto ad altre guerre a cui chi ha combattuto, chi ha scelto, a cui ha partecipato, come quella in Siria, ha cambiato retorica o ha cambiato propaganda. Lui stesso, il termine denazificazione, che all'inizio era la giustificazione a questa guerra, è stato abbandonato, perché inefficace, dal Cremlino per primo, perché non era riuscito, perché non stava funzionando, perché che ci siano delle milizie neonaziste in Ucraina, lo sappiamo, che ci sia un partito, National Corps, che è abbinato, diciamo, a queste milizie, che si è candidato alle elezioni, ha preso il 2%, diciamo, poco più di quello che hanno preso Casa Pound e Forza Nuova in Italia, se non vogliamo considerare altri partiti come, dei partiti con una eredità di un certo tipo. Zelensky si è scontrato con National Corps, con questo partito, con le milizie, Azov e Pravi Sector, il settore destro, fino a dicembre, cioè fino a due mesi prima che cominciasse l'invasione, quando c'è stata una pace sostanziale con queste milizie, che avevano neanche troppo velatamente minacciato anche un colpo di Stato contro Zelensky, che non sarebbero riuscite a portare avanti per numeri e forze, ma chiunque seguisse la stampa ucraina o le vicende ucraine sapeva che Zelensky era il nemico delle milizie di estrema destra e non il loro rappresentante politico. Le origini ebraiche di Zelensky non hanno aiutato a portare avanti questo discorso dal punto di vista di Putin. Il fatto che nei primi giorni Putin nella sua operazione di denazificazione abbia sfregiato Babi Yar, cioè uno dei più importanti monumenti alla memoria contro i crimini nazisti e i monumenti all'olocausto del mondo dove sono stati ammazzati centomila ebrei ucraini durante la seconda guerra mondiale, quella retorica non ha funzionato e Putin si è spostato sul dire l'Occidente ci vuole schiacciare, questa nostra guerra è una guerra sostanzialmente difensiva. Il 21 febbraio del 2022 Putin fa un discorso alla Nazione in cui dice l'Ucraina è un paese fallito, l'Occidente è debole, andiamo noi a prenderci cura dell'Ucraina, a occuparci dell'Ucraina, a liberarla da un governo nazista evocando la guerra gloriosa per cui la Russia a tutti gli anni ancora il 9 maggio celebra la parata della vittoria, quella contro il nazismo. Quindi questa guerra inizia come una guerra raccontata, come una guerra gloriosa in cui noi siamo i forti e l'Occidente è debole. Kiev va liberata e siamo noi la grande potenza che può liberarla, ma è uno stato fallito e finisce oggi dicendo siamo aggrediti, noi stiamo combattendo per la sopravvivenza della Russia. Quindi cambia completamente retorica perché forse alcune cose non se le aspettava neanche Putin. Cioè che nell'est russofono tu dicevi è una guerra che ha tra le sue giustificazioni iniziali anche la liberazione dei popoli dei russofoni del Donbass, Mariupol è la più importante città che non fosse già sotto il controllo dei separatisti dei russofoni del Donbass. Putin inizia una guerra per proteggere i russofoni del Donbass e ammazza quasi solo i russofoni del Donbass. Cioè i suoi nemici più espliciti gli ucraini diversi etnicamente dell'Ovest non vengono quasi sfiorati. Gli abitanti uccide 23.000 abitanti di Mariupol in sei settimane. Questo è stato il genocidio del Donbass e il genocidio del Donbass c'è stato nel 2022 a Mariupol quando si è bombardato il teatro con la scritta Bambini e si sapeva perfettamente i russi sapevano perfettamente perché accerchiavano già la città conoscevano quello che c'era chi si muoveva vedevano i movimenti delle armi sul campo cioè il il crimine di guerra più grave che sia stato compiuto in Ucraina più grave nel senso brutalmente di numero di vittime del crimine di guerra che ha fatto è stato il 16 marzo al teatro di Mariupoli io ho parlato con una ragazza che era lì che era uscita un secondo per andare a recuperare del cibo il suo appartamento l'appartamento di sua madre e di sua sorella erano già stati distrutti quindi lei va da suo zio per prendere del cibo e mentre sta tornando di corsa verso il teatro dice vedo i bombardieri russi in cielo li seguo in realtà non sono neanche spaventata perché li ho visti sganciare bombe sulla mia città cento volte e la centesima volta in cui ti sganciano una bomba vicino e sopravvivi incominci a pensare di essere smetti di avere paura ogni singola volta se no impazzisci quindi per sopravvivere il tuo cervello incomincia a pensare che quelle bombe non ti riguardino quella bomba invece la riguarda perché finisce sul teatro dove c'è sua madre e sua sorella e tutti i sopravvissuti della sua famiglia lei vede i sopravvissuti da dentro il teatro che cominciano ad uscire sporchi di nero sporchi di cenere feriti sanguinanti perché pensano che ci possano essere altre bombe che cadono nello stesso punto e i cecchini sparano e uccidono una donna già ferita alle persone che escono dal teatro si rifugiano dentro la filarmonica di Mario Pol che è vicina ovviamente al teatro lei in quel momento mi dice io ho un'illuminazione capisco che non stanno mirando non stanno mirando a degli obiettivi militari non è un errore non può essere un errore due volte di fila che vedi i bambini e sganci la bomba e poi usciamo e ci spari contro mentre usciamo era chiaro che quello era un momento di assedio di una violenza tale di un terrorismo tale per cui il discorso era fare in modo che fossero gli abitanti di Mario Pol a pregare Zelensky di arrendersi perché la situazione era è una strategia simile su diciamo a quella che è stata adottata per Aleppo in Siria quindi lei in quel momento questa ragazza si chiama Maria ha l'illuminazione lei l'ha chiamata così di dire no non devo rifugiarmi insieme alle altre persone perché le persone non sono un ostacolo tra le armi russe e l'obiettivo militare non sono una cosa che si frappone in mezzo sono l'obiettivo in quel momento in quei luoghi dei russi e quindi lei non scappa non va con gli altri nella filarmonica e grazie a questo si è salvata perché anche la filarmonica di Mario Pol subito dopo il teatro è stata distrutta invece dall'artiglieria russa quindi questo è quello che è successo ai russofoni del Donbass e che Putin non avrebbe osato probabilmente fare a Kiev e io ho incontrato in Donbass che tra l'altro era il Donbass ucraino e il Donbass russo erano un sistema poroso cioè c'erano donne ragazze madri mogli che avevano il marito che lavorava di là e loro vivevano di qua famiglie con le sorelle a Donetsk e la madre a Liman sotto il controllo di Kiev quindi gli ucraini filorussi che volevano vivere sotto il controllo diciamo nelle zone dei separatisti in Russia anche quando inizia la guerra ci sono due milioni di russi che vivono in Ucraina e viceversa quindi non c'era non so c'era una guerra è un termine orrendo ma rispetto a quello che abbiamo visto nel 2014 e 2015 era diventata una guerra a bassa intensità c'era un sistema per cui chi voleva stare con i separatisti andava a vivere in quei territori negli ultimi anni l'emigrazione era stata più all'incontrario perché comunque i separatisti erano uno stato fallito per cui non pagavano le pensioni e diciamo l'emigrazione era più da est verso ovest che viceversa ma i primi ad accorgersi diciamo che c'è qualcosa che non torna nella retorica di Putin sono gli ucraini russofoni dell'est e quelli che io ho conosciuto persone nell'est a cui Putin piaceva fino al 2022 che non avevano sposato la linea intrapresa da Kiev dopo il 2014 ma che quando hanno visto Mariupol da russofono del Donbass come diciamo è lì è stato quello il momento in cui hanno cambiato idea su Putin e su Kiev non non prima forse sono diciamo ho parlato troppo perché ero un po' coinvolta vedo i minuti e mi fermo qui no no ma anzi assolutamente tra l'altro diciamo siamo perfettamente nei tempi e io resterei sempre su questo filone del tema della libertà passando appunto a Simone guardandolo appunto sempre dall'altra parte del mondo tra l'altro appunto abbiamo fatto un'intervista Simone Pieranni che uscirà nel prossimo numero di Pandora Rivista che ruota proprio intorno a questa domanda che possiamo dire in maniera semplice come si dice libertà in cinese ovvero come questo concetto che per noi è così importante che in un qualche modo è legato all'autocomprensione di quello che noi siamo al nostro pensiero politico come viene in un qualche modo visto da una cultura come quella cinese sia in riferimento appunto a sé che in riferimento alla libertà occidentale il tema è enorme però appunto se puoi darci qualche coordinata su questo sì intanto ti ringrazio perché l'ho mai fatto dormire per tre o quattro notti quando mi hai mandato sta domanda perché in effetti è un tema gigantesco che tra l'altro interroga anche un passato che insomma che poi in Cina insomma parliamo di migliaia di anni di storia se tiriamo dentro Confucio se tiriamo dentro i taoisti ora guarda la professoressa non mi non mi arrischio così evitiamo ogni cosa e starei un po' più diciamo sul tema e mi vengono in mente due cose principalmente una è il viaggio che Wang Huning che è il come dire teorico possiamo dire un po' delle ultime generazioni dei leader cinesi che adesso è all'interno in realtà già dal 2017 all'interno della commissione permanente del politburo del comitato centrale del partito comunista che è un po' il cuore politico il cervello oltre che il cuore politico della Cina una cosa particolarmente interessante è che qualche tempo fa su Foreign Affairs è comparso un articolo sui fatti di Capitol Hill se vi ricordate visto che tra l'altro poi di Trump se ne riparnerà a breve cioè non noi per fortuna insomma però ne sentirete parlare e questo analista americano diceva se volete capire cosa è successo a Capitol Hill vi dovete leggere il libro di Wang Hunin che è un libro degli anni Ottanta in realtà che si chiama America Against America e Wang va praticamente negli anni Ottanta a farsi un giro negli Stati Uniti per capire un po' cosa stava succedendo e scrive questo libro e deduce fondamentalmente due cose uno che negli Stati Uniti è pericolosamente più considerata più importante la libertà che l'uguaglianza che Wang Hunin dice erano i due cardini praticamente della nascita degli Stati Uniti d'America e poi osservo un'altra cosa che vabbè è laterale ma che ci dice un sacco di cose se ci pensiamo cioè che la rivoluzione la progressione tecnologica americana era qualcosa che la Cina doveva osservare con molta attenzione e tendenzialmente fare la stessa cosa ma privilegiando molto di più l'uguaglianza anziché la libertà e cosa conclude Wang Hunin che il partito comunista cinese non può assolutamente permettersi di perdere il controllo ideologico sulla popolazione questo avviene a metà degli anni 80 poi nel 91 avviene quella che per la dirigenza del partito comunista cinese è la più grande disgrazia che potesse accadere che per fortuna però accade in un altro paese cioè la disgregazione dell'unione sovietica e anche in questo caso qua ad esempio il leader cinese attuale Xi Jinping nel 2012 subito dopo la nomina segretario del partito fa un discorso ai funzionari in cui ricorda proprio la disgregazione dell'unione sovietica che è il tema diciamo più studiato dalla leadership del partito comunista cinese proprio perché vogliono evitare che succeda qualcosa del genere anche in Cina e Xi Jinping dice una cosa tipo vabbè è bastata una parola di Gorbachev e il partito comunista sovietico si è dissolto e questo è successo dice perché nessuno ha avuto le palle per resistere quindi già abbiamo come dire un'impostazione molto chiara di che cosa sia stato per il partito comunista la disgregazione dell'unione sovietica e questo ci riporta anche poi a tutta una serie di considerazioni che oggi la Cina fa alla fine sulla Russia considerando anche i rapporti storici tra Cina e Russi prima in epoca imperiale e poi con l'unione sovietica però questo accenno di Wang Huning alla libertà è piuttosto interessante perché ci dice che la libertà come la intendiamo noi cioè sostanzialmente un deragliamento da quelli che sono i valori proprio culturali tradizionali che permettono una coesione sociale quindi quella che per i cinesi è la cosa più importante cioè la stabilità può essere rischiosa se aggiungiamo poi la considerazione che il crollo dell'unione sovietica è stata sostanzialmente una perdita del controllo da parte del partito sovietico dalla perdita proprio del controllo ideologico con la liberalizzazione politica e tutto quello che ne è conseguito abbiamo già un'idea piuttosto chiara diciamo di come si ponga il partito comunista perché ovviamente poi quando parliamo di libertà in Cina noi non possiamo non tener conto di quello che pensa il partito che in realtà però da un punto di vista diciamo dei cinesi se nell'ultimi 40 anni diciamo il concetto di libertà si è sviluppato molto in funzione anche dell'occidente pensiamo all'89 eccetera c'è qualche settimana fa Xi Jinping ha fatto un discorso che è un po' la mia ossessione ormai che secondo me identifica molto bene quello che è per i cinesi proprio non solo il concetto di libertà ma anche un concetto proprio di sviluppo autonomo sostanzialmente del paese da quelle che sono le logiche con le quali invece noi abbiamo assistito allo sviluppo economico sociale politico in occidente ha fatto un discorso sulla modernizzazione con caratteristiche cinesi nella quale sostanzialmente lui dice abbiamo dimostrato che la Cina si è modernizzata e che modernizzazione qui non significa occidentalizzazione e dice il nostro modello di sviluppo può essere un esempio per tutti i paesi in via di sviluppo che vogliono perseguire uno sviluppo autonomo rispetto a quelle che sono le indicazioni che arrivano invece dal mondo occidentale ecco questa credo che sia la chiave anche interpretativa per capire pure la postura cinese in questo momento rispetto anche al conflitto in Ucraina di cui poi magari parliamo adesso vedo il tempo che scorre mi viene l'ansia e quindi la chiudo se noi dobbiamo pensare quando parliamo quando pensiamo a paesi come la Cina che noi abbiamo conosciuto solo la storia veramente più recente della Cina per i cinesi oggi è molto importante quello che loro chiamano il secolo delle omigliazioni quando da metà dell'ottocento fino praticamente alla nascita della Repubblica Popolare la Cina è stato un paese occupato da potenze straniere europee occidentali e poi anche dal Giappone ma prima di quella fase la Cina era la potenza per eccellenza in Asia era la potenza che guidava di fatto culturalmente anche un intero continente che era oltremodo apprezzata anche dai visitatori occidentali che andavano lì e tra l'altro nonostante questo era stato in grado di sviluppare anche delle cooperazioni come le chiameremmo oggi con mondi diversi pensiamo solo alle missioni dei gesuiti in Cina che confermano il fatto proprio ritornando al discorso di prima dell'orientalismo che in realtà si può diciamo cooperare immaginatevi un gesuita che incontra l'imperatore cinese eppure riescono a trovare un modo diciamo per capirsi e anzi quasi per creare una sorta di meticciato culturale tra di loro perché si influenzano a vicenda i gesuiti attraverso la comprensione innanzitutto di che cos'era la Cina e la Cina in una maniera un po' più pragmatica attraverso quello che potevano dare in più i gesuiti rispetto a quello che era ad esempio lo sviluppo scientifico astronomico e tutte queste cose che interessavano moltissimo all'epoca all'imperatore ma dopo questa fase quando nasce la Repubblica Popolare Cinese nel 1949 la Cina è uno dei paesi più poveri al mondo a causa anche dei trattati ineguali dopo le guerre dell'oppio a causa delle occupazioni l'analfabetismo è tipo al 90% la prospettiva di vita media non arriva neanche al 30% quindi per i cinesi la libertà intanto è riottenere la possibilità di un benessere della popolazione quindi a un certo punto ad esempio per farla breve negli anni 90 la libertà qual è? quella di arricchirsi ad esempio di passare ad una vita finalmente dignitosa e non più una vita occupata da cercare le cortecce negli alberi come accadeva negli anni 60 perché non c'era praticamente da mangiare e soprattutto oggi quindi questo concetto è un concetto che la Cina in qualche modo rivendica perché non gli viene riconosciuto sostanzialmente non viene riconosciuto un'autonomia dello sviluppo cinese che ha portato comunque a sollevare dalla povertà centinaia di milioni di persone e questo naturalmente però ci mette fortemente in discussione perché se noi parliamo di diritti universali probabilmente non la vediamo allo stesso modo cioè probabilmente per un cinese il principale diritto è quello il diritto ad esempio a mangiare ancora oggi gli anziani per chiedersi come va ti chiedono se hai mangiato per capire in che modo ancora percepita questa cosa e quindi quando Xi Jinping parla di modernizzazione diversa da occidentalizzazione rivendica di fatto un diritto della popolazione cinese a scegliere il proprio percorso di crescita al di là di quelle che sono i valori occidentali che ci consentono di leggere diciamo questa crescita cinese in una maniera un po' a chiaro scuro con dei chiari scuri ovviamente e quindi tornando e chiudendo la questione è proprio questa cioè la modernizzazione la possibilità diciamo di uno sviluppo autonomo crea poi una postura internazionale che è quella che è la base della politica estracinese cioè la non ingerenza negli affari interni cioè per essere proprio semplicissimi la Cina dice non mi interessa il colore politico diciamo di chi ho di fronte non mi interessa come questo leader gestisce di sviluppare l'economia di gestire la società l'importante è che possiamo affari perché tutti i due paesi possano beneficiarne il cosiddetto win-win se noi non capiamo questa cosa finiamo per proiettare sulla Cina dei nostri desideri che sono legittimi ma che non troveranno una risposta efficace quando è iniziata l'invasione della Russia io ho detto speriamo che ci metta una pezza nel senso lo speravo fortemente ma non accadrà probabilmente proprio perché i punti di partenza su questi ragionamenti sono completamente diversi dai nostri e diciamo dobbiamo imparare a capire un po' da dove partono questi ragionamenti per essere in grado poi non solo di contrapporsi quando c'è qualcosa che riteniamo che sia sbagliato ma per cercare invece diciamo di trovare dei terreni comuni come si suol dire che evitino di cadere in quello che è l'errore più grande dell'orientalismo che è uno scontro di civiltà che non ha alcun senso grazie per queste considerazioni così stimolanti su questioni complicatissime ma fondamentali ecco tornerei adesso appunto in occidente diciamo nelle democrazioni occidentali è sempre tra virgolette e su categorie diciamo di occidente e per diciamo andare su una forma che tradizionalmente è stata spesso associata alle rivendicazioni di libertà ovvero i movimenti i movimenti le proteste sono appunto tradizionalmente qualcosa che associamo alla richiesta di diritti alla richiesta di libertà e l'abbiamo visto effettivamente anche in Iran ma anche in altri casi però abbiamo visto anche altri movimenti che invece sono stati espressioni di in qualche modo pulsioni autoritarie pensiamo a quello che è successo in Brasile ecco come vedi diciamo dal tuo osservatorio il rapporto tra questi due elementi cioè che ruolo hanno giocato i movimenti in questo in quest'ultimo anno ma ovviamente anche prima si citava Capitol Hill anche il trampismo diciamo perdente c'è il trampismo rancoroso il trampismo post sconfitta è un movimento e quindi non lo associo in particolare può essere una richiesta di libertà può essere una richiesta di pane può essere una richiesta di cibo può essere una richiesta di maggiore benessere economico o minima sussistenza e può essere l'espressione violenta di una diversa interpretazione del mondo probabilmente Donald Trump quando diceva che Joe Biden ha rubato le elezioni non lo pensava sapeva che non era o magari sì non riesco a mettermi nella sua testa completamente ma sicuramente quelli tanti dei suoi lo pensavano veramente cioè sono e vedono veramente l'ipotesi dell'arresto del loro leader come un qualcosa a cui o rispondi con qualsiasi mezzo o è persa per sempre la tua battaglia in questa visione completamente spalzata di ciò che è reale ciò che non lo è e di ciò che sta succedendo il caso brasiliano secondo me era più un po' più grottesco fin dal principio nel senso che credo che l'assalto a Capitol Hill fosse fatto da persone che pensavano veramente di poter ottenere qualcosa un po' spinte dal loro leader da Trump penso che l'assalto al Palacio do Planalto l'assalto al Congresso l'assalto alla Corte Suprema brasiliana sia stato invece uno sfogo cioè un gesto di mischino di oltraggio a una democrazia che a quei manifestanti non piace senza nessun reale obiettivo di pensare di poter ribaltare il risultato di quelle elezioni di togliere la presidenza a Lula movimenti io ascoltando Simone ma insomma già poi mi sono mi sono dilungata sui russofoni del Donbass e su Mariupol ma l'Iran il movimento iraniano che si è che si è rafforzato quest'anno l'Iran vive una grandissima contraddizione di cui anche la Repubblica Islamica che ha guardato per altri motivi con altrettanto interesse alla disgregazione dell'Unione Sovietica la Repubblica Islamica sa benissimo che ci sono delle generazioni con cui non riesce a parlare non riesce a comunicare e sa anche di esserne parzialmente responsabile perché non si tratta del cibo ma si tratta dell'alfabetizzazione per esempio nell'Iran prima della Repubblica Islamica il 40% delle persone sapevano leggere scrivere e far di conto oggi sono il 95% e il clero sciita islamico ha educato tutti in Iran non c'è una contadina in un villaggio sperduto in mezzo al deserto che non sappia leggere scrivere e far di conto detto questo quando uno sa leggere legge quello che vuole e l'Islam sciita che è una lettura molto meno rigida dell'Islam sunnita del Corano cioè è una lettura per cui si dice fin dal principio quello che ti insegnano anche lo stesso clero è il Corano si interpreta non si applica la lettera ed è il motivo per cui i sunniti terroristi sunniti che noi abbiamo conosciuto con i talebani lo stato islamico con al-qaeda prima di andare ad ammazzare gli infedeli occidentali ammazzano gli sciiti e quello che sta facendo l'Isis nell'Afghanistan che è una bomba dal punto di vista della sicurezza in questo e non solo ovviamente anche dei diritti ma quelli che muoiono ogni settimana in moschea sono gli sciiti che osano interpretare il Corano l'Iran è il più importante paese sciita è un paese considerato la Germania del Medio Oriente è un paese ordinato rispetto al resto del Medio Oriente e del Nord Africa anche perché è abbastanza unito etnicamente abbastanza omogeneo etnicamente ma è un paese dove c'è una generazione ed è un problema che esplicitamente la Repubblica Islamica si pone dal 2009 c'è una generazione di giovani iraniani con cui noi non riusciamo a parlare a cui il valore della nostra rivoluzione non riusciamo a passarlo che non capisce perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e cosa c'è di buono in quello che loro hanno oggi in questo sistema e l'Iran che è un paese dove nelle materie estreme quindi dall'elettronica all'aeronautica a tutte le materie scientifiche matematiche tecnologiche il 70% quasi delle laureate sono donne è un paese dove le donne lavorano pilotano gli aerei fanno le meccaniche in officina è un paese dove c'è un problema irrisolto sull'emancipazione femminile che nella realtà è pienissima ovviamente non in tutto a Teheran è pienissima ci sono tantissime donne fuori da Teheran e anche a Teheran in parte che metteranno il velo fino all'ultimo dei loro giorni anche se gli imponessero di non farlo perché pensano che se no vanno all'inferno ma c'è un problema con una generazione che non capisce i valori della rivoluzione islamica e con metà della popolazione femminile che è molto più avanti di quello che lo Stato gli permette di ottenere e di fare oggi che quest'anno ha avuto l'espressione più forte più convinta più determinata e anche più aggressiva di sempre nella storia negli ultimi quarant'anni e nella storia della Repubblica Islamica e la Repubblica Islamica sa benissimo che non è finita qui che è stata sedata in questo momento che ci sono delle ipotetiche riforme da fare che vedremo se e quanto faranno ma che è una tensione che non hanno ancora capito e chiedono alle loro migliorimenti nelle università ai teologi di lavorare a risolvere questo problema dal 2009 è un qualcosa che non si è esaurito e lo sanno benissimo ho spaziato mi sono fermata un po' più sull'Iran ma tra movimenti molto diversi benissimo assolutamente abbiamo solo 5 minuti la domanda che avevo per Simone è una domanda difficile quindi mi rendo conto di chiedergli ma peraltro è un tema che è anche trattato nell'ultimo episodio di altri orienti abbiamo parlato di Russia abbiamo parlato di Cina in un qualche modo anche dell'idea molto critica che la Cina ha rispetto all'idea di libertà occidentale ovviamente questo diciamo vale in forme diverse anche per la Russia e in un qualche modo questo ha portato diciamo a una critica anche sul piano dell'ordine internazionale alla sistemazione diciamo attuale dell'ordine internazionale liberale però una critica che finora era proceduta per molti versi in parallelo e tu vedi adesso diciamo la possibilità diciamo di una saldatura tra Russia e Cina in questo tentativo revisionista sul piano internazionale allora intanto è diventato pure rosso il countdown cioè ma allora diciamo che la Cina e la Russia hanno messo in discussione l'ordine internazionale in due modi molto diversi tra di loro proprio per questioni di brevità la Cina chiede soprattutto spazio a livello di governance mondiale e di commercio cioè sostanzialmente la Cina è stata tenuta fuori dai centri nevralgici e dei luoghi dove si decidono le sorti economiche del mondo come fondo monetario e banca mondiale e quindi a un certo punto nel 2013 ha detto invece le facciamo noi e ha fatto la nuova via della seta che non è solo il progetto di infrastruttura eccetera ma è anche un fondo che costituisce cioè che è parallelo diciamo al fondo monetario internazionale e una banca e sono a guida cinese quando Xi Jinping diventa segretario dice tra Cina e Stati Uniti è il momento di dare vita a una nuova relazione tra grandi potenze cioè una relazione paritaria in cui noi non siamo più i junior partner nel senso che noi siamo la seconda potenza economica del mondo siamo indispensabili da un punto di vista economico per tutte le economie del mondo vogliamo avere la possibilità di dire la nostra tanto quanto gli Stati Uniti cioè non siamo più secondari diciamo a questo il revisionismo russo è molto più nell'immediato probabilmente molto più pericoloso ed è molto più militare no? cioè il 2008 la Georgia il 2014 Donbass e Crimea il 2022 proprio un'invasione cioè sono diciamo strumenti come dire completamente diversi ma il paradosso è che per gli Stati Uniti è molto più problematica la messa in discussione del mondo unipolare da parte della Cina che ha presumibilmente la capacità di reggere molto di più in realtà su questo discorso della Russia e soprattutto la Cina molto più della Russia parla a quello che noi chiamiamo il sud globale no? cioè parla a tutti quei paesi che in realtà sono poco interessati magari alla guerra in Ucraina che hanno però dei passati coloniali o che hanno vissuto diciamo i tentativi di esportazione della democrazia che quindi hanno un'idea molto chiara di che cosa significhi fondamentalmente l'ordine mondiale unipolare che gli Stati Uniti hanno messo in campo fin dagli anni 90 cioè da dopo l'Unione Sovietica ma questa è una critica che negli Stati Uniti viene fatta anche da moltissimi analisti statunitensi che dicono ma dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica noi non abbiamo pensato in realtà un sistema che tenesse conto anche delle potenze emergenti abbiamo anzi con l'Iraq l'Afghanistan eccetera abbiamo tentato ancora di più di fare questo ruolo degli sceriffi sostanzialmente in giro per il mondo la Cina mette in discussione proprio questo cioè mette in discussione che l'ordine mondiale ormai è multipolare è composto da molte potenze regionali che ad avviso diciamo di Pechino devono avere la stessa possibilità diciamo di dire la propria anche in un ambito internazionale questo naturalmente però non può che portare a degli screzzi e a degli scontri con gli Stati Uniti come al solito quando c'è la percezione che una potenza decada e un'altra cresce è molto probabile che arrivino anche degli scontri che storicamente sono stati anche poi risolti in maniera attraverso le guerre la vera percezione della Cina di questo cambiamento diciamo del contesto internazionale arriva nel 2008 con la crisi dei subprime negli Stati Uniti e quello è il momento nel quale la Cina percepisce una decadenza se vogliamo da parte degli Stati Uniti e tutto sommato sarà una decadenza che pagherà per primo il presidente americano in quel momento cioè Obama che sostanzialmente dirà dobbiamo un attimo gestire dei problemi che abbiamo e ha pagato prima con l'elezione poi di Trump ma l'ha pagata anche tra gli stessi democratici che mal vedevano questa necessità diciamo americana di fare un downgrade diciamo del proprio potere in giro per il mondo quindi adesso la situazione è questa cioè c'è in effetti una saldatura ma una saldatura che ha cambiato completamente i rapporti di forza cioè oggi la Cina è rispetto alla Russia al partner con il coltello dalla parte del manico di fatto tiene viva economicamente la Russia e la tiene non presentabile in nostri occhi ma presentabile in tante altre parti del mondo politicamente perché alla Cina viene molto bene invece il discorso anti-occidentale della Russia proprio perché la Cina parla all'Africa all'Asia Centrale al Medio Oriente ormai abbiamo visto anche con l'accordo tra Iran e Arabia Saudita quindi c'è sì una saldatura ma la Cina è molto diversa dalla Russia Xi Jinping e il partito comunista cinese sono molto diversi da Putin nel senso che Putin è un po' un uomo solo effettivamente ormai a comando con poche persone probabilmente in grado di ascoltare o di consigliarlo la Cina è una realtà molto diversa da questo punto di vista nonostante ci sia stato un accentramento molto forte dei poteri con Xi Jinping c'è una saldatura e quindi il momento è molto rischioso però non è detto che non ci possa essere comunque ancora una possibilità di uscirne in realtà da questa saldatura ma siamo in un momento nel quale non sembra che ci sia molto spazio in realtà per questo perché al di là del fatto che la proposta in 12 punti della Cina non è una proposta di pace per come la potremmo definire noi perché non è una roadmap nel momento in cui però la Cina ha simulato secondo me senza veramente volerlo fare ma ha simulato la possibilità di intervenire gli Stati Uniti hanno alzato subito una bandiera molto grossa dicendo non se ne parla ecco è chiaro che è in gioco di fatto un'egemonia se vogliamo anche nella capacità di mediare tra conflitti e quindi cioè non è al contrario di quanto diceva Mao la confusione è tanta e la situazione non è molto eccellente ecco anzi grazie io farei un applauso ai nostri relatori anche perché anche perché sono riusciti a trattare questioni complicatissime vitali con diciamo in un tempo e con questo timer che voi non vedete ma vi assicuro che quando diventa rosso sa essere abbastanza al cardiopalma ecco e abbiamo però una decina di minuti per prendere alcune domande dal pubblico e chiedere appunto ai nostri ospiti di rispondere quindi non so se c'è un microfono in sala immagino me l'hanno già dato io avrei una domanda per Simone sono qui riguardo il concetto che avevi introdotto di avanzamento tecnologico della Cina senza occidentalizzazione tu come lo spiegheresti il paradosso o per lo meno dal nostro punto di vista occidentale per cui per lo meno da un punto di vista socioculturale per cui un avanzamento tecnologico una formazione più avanzata della popolazione anche una maggior istruzione non è accompagnata da una maggior ricerca di libertà individuali cioè la Cina portando anche le sue migliori menti a formarsi all'estero come mai queste menti poi non rivendicano maggior diritti individuali grazie se ci sono già altre domande possiamo raccoglierne tre direi tre quattro e ciao io ho degli spuntini piccoli poi voi vedete cosa farne un po' follow up anche ad alcune puntate una grossa diciamo è su Biden in tutto questo in molti discorsi che abbiamo fatto anche l'ultimo che facevi tu Simone cosa fa cosa fa bene cosa dovrebbe fare poi il nucleare Cecilia ne ha parlato in alcune puntate ci sono sviluppi ultimamente c'è ovviamente la minaccia nucleare da parte della Russia ricordatevi che abbiamo dieci minuti no no ma infatti infatti magari tre ne cestinate poi tenete quello che vi parlo poi l'Iran è finita questa puntata diciamo è finita ma questi sono i follow up Cecilia aveva parlato di chat carceri armi sì ti risponderò ok ah sì una volta avevi parlato di controlli particolarmente stringenti in un certo punto dell'Ucraina sulla costa forse ah o c'è Kiff la base ecco se ci saranno storie la base perfetta grazie perfetto raccogliamo altre direi massimo due domande io ho una curiosità sul tema ecologico se è un tema che percepite come occidentale se è qualcosa che potrà diventare strumento dell'orientale per un avanzamento tecnologico per un'affermazione futura nel mercato o se è un tema che proprio l'Oriente per quello che intendiamo noi per gli orienti che stavate descrivendo non esiste personalmente parlando di avanzamento nel contesto delle materie STEM molto presenti e molto forti nell'Oriente la vedo dura che possa essere un tema nullo inesistente quindi è sommerso esiste non esiste lo percepiamo come occidentale o è orientale grazie ultima domanda se c'è qui in seconda fila buongiorno salve a tutti ho solo una curiosità appunto il titolo di questo panel è il mondo nella lente dell'informazione ero curiosa di sapere quale fosse il vostro modo di interazione con giornalisti nelle aree del mondo che poi che voi avete raccontato e che raccontate spesso nei vostri podcast e nei vostri articoli grazie questa era l'ultima domanda che purtroppo non c'è stato tempo di fare comunque tre minuti a testa iniziare con allora prendo allora inizio dal sono io ho un diciamo seguire alcuni posti vuol dire seguirli anche quando non ci puoi andare nel caso di Simone ovviamente nel senso che ci sono posti dove non in Cina non è stato facilissimo andare ultimamente in Iran neanche però i colleghi sul posto io ogni volta che scrivo un pezzo sull'Ucraina o faccio una fontata sull'Iran c'è una persona lì che sento anche solo per chiedere ma questa cosa è vera che qui è girata molto oppure ma tu come la vedi il rapporto che costruisci con con le fonti lì in generale qualunque mestiere facciano ma con i tuoi colleghi che hanno la stessa sensibilità che sai che sei uscita una notizia l'hanno vista che ti sanno rispondere in tempi che purtroppo sono quelli delle notizie che a volte hanno una vita breve e per me è fondamentale sull'Iran capitolo chiuso ho provato a dire cosa ne pensassi prima nel senso che non è un capitolo chiuso perché non è un tema risolto e risolvibile non è neanche io non ho mai creduto che fossimo a un passo dal collasso della Repubblica Islamica non potevo escluderlo perché perché ci sono cose che è meglio non escludere insomma moltissimi hanno escluso che Putin potesse invadere l'Ucraina e poi purtroppo è successo quindi però c'è un movimento che in questo momento si sta riorganizzando non ci sono le proteste che ci sono state da settembre fino a circa dicembre in Iran in questo momento ci sono delle piccole vittorie preziose fragili insufficienti come il fatto che a Teheran giri per interi quartieri della Teheran Ovest e non incontri quasi nessuna con il velo questa cosa era impensabile sei mesi fa e oggi è una realtà quindi ci sono delle cose che le iraniane e gli iraniani hanno ottenuto molte meno di quelle che alcuni di loro speravano tanti non si fidano che questi questi risultati siano messi in sicurezza e quindi che fra un anno una volta che le proteste saranno un ricordo lontano la polizia religiosa che adesso è stata fatta sparire dalle strade non possa tornare sulle strade per far rispettare le stesse regole di un tempo ma dei piccoli successi fragili insufficienti sono stati raggiunti durante questi mesi di violenza di brutalità di coraggio su Biden è impossibile credo dire se Biden cosa sta facendo bene male dove in tre minuti io sono diciamo a volte vedo una confusione dei piani rispetto alla guerra in Ucraina per cui vi assicuro questo si è detto anche addirittura per alcune manifestazioni in Medio Oriente nessuno va a morire perché glielo dice qualcuno che abita dall'altra parte dell'oceano cioè il fatto che la guerra in Ucraina si inserisca anche dentro o una primavera araba si inserisca anche dentro delle dinamiche globali che viaggiano più in alto delle teste di quelle persone che la vivono sulla propria pelle la realtà e quindi che la guerra in Ucraina si inserisca nello scontro tra Russia e Cina non c'è dubbio che Biden abbia mai avuto in questi mesi la capacità di influenzare gli ucraini per fargli fare di più di quello che non avrebbero voluto fare da soli è assurdo pensarlo per chiunque abbia frequentato l'Ucraina di recente gli Stati Uniti hanno frenato su alcune cose voi vi ricordate che all'inizio la no fly zone sembrava una cosa a cui gli ucraini non avrebbero mai potuto cedere rinunciare che avrebbero insultato l'Occidente finché non gli dava la no fly zone che se ti metti nei panni di uno che fino a ieri faceva una vita normale e da oggi gli arrivano i missili intorno sul condominio dove abita o vicino alla scuola dove vanno i suoi figli è una richiesta una no fly zone sembra un qualcosa di pacifico e invece c'era un minimo rischio di uno scontro diretto e quindi è stata esclusa e da allora sono state escluse molte altre cose che gli ucraini hanno chiesto e a cui gli Stati Uniti hanno detto di no sull'atomica è un tema che va trattato con molta attenzione rispetto e che è veramente complicato sintetizzare in pochissimo tempo ci sono dei russi degli analisti che si occupano esclusivamente di armi atomiche russe che lo fanno e che e che danno una lettura che di solito non è quella che purtroppo si trova sui giornali cioè mi sembra abbastanza evidente che la questione arma atomica minaccia nucleare sia chiaro a tutti che funziona moltissimo e attira moltissimo l'attenzione e che a volte viene un po' strumentalizzata per questo motivo e visto quanto è delicato l'argomento Putin l'ha evocata ogni volta che qualcosa gli andava storto ma il sistema russo per quanto estremamente problematico per usare un eufemismo e i sistemi di non proliferazione sono e lo stesso atteggiamento della Cina su questo punto sono un po' più solidi di come a volte vengono raccontati insomma Putin ha un po' il vizio di evocare questa cosa ogni volta che deve spaventare la controparte perché qualcosa gli è andato storto ok ho zero secondi per rispondere adesso allora no volevo dire una cosa intanto sulla questione dell'informazione cioè i nostri sono podcast giornalistici e la base del lavoro di un podcast giornalistico è la stessa di quando scrivi un articolo giornalistico cioè la prima cosa sono le fonti ovviamente ciascuno di noi ha dei contatti e in alcuni paesi tra l'altro devi avere un uso abbastanza accorto delle fonti perché la cosa più importante è non mettere a rischio quelle fonti in paesi come Iran o anche Cina dove non è sempre così semplice poter parlare di certi argomenti però ci tengo a dire questa cosa perché sono podcast giornalistici è informazione non è spiegazione ok cioè nel senso che sono due cose diverse noi per scrivere dieci righe di stories magari facciamo cinque telefonate e ci leggiamo due libri perché è un lavoro proprio giornalistico oltre ad andare poi a verificare i fatti eccetera cioè in alcuni casi noi diamo un contesto a delle notizie in altre in qualche modo le notizie le cerchiamo ok questo è importante lo dico fuori di polemica però è importante perché a volte il lavoro giornalistico viene un po' svilito rispetto a chi magari poi la racconta una storia in un certo modo ma se non ci fosse il lavoro giornalistico non ci sarebbe neanche la spiegazione bene o male che venga fatta ok questo ci tengo a dirlo perché è importante se no poi sembra che non abbia più valore fare un lavoro sul campo o farsi anche degli sbattimenti di cercare gente dall'altra parte del mondo che non ti risponde o che magari non può risponderti e quindi sei lì a leggere veramente i fondi del caffè per capire cosa ti ha detto o interpretare a volte neanche puoi dire le cose che ti dice ma le usi per dare appunto un contesto a tutta una serie di cose fuori di polemica sulla questione ambientalista è ovviamente un elemento centrale anche in Asia in particolare ad esempio sulla Cina qualche tempo fa quando c'era stato un altro dei momenti di proteste qua in occidente adesso non mi ricordo quale mi pare sul Corriere della Sera era stato scritto ecco perché in Cina non ci può essere una Greta perché se ci fosse una Greta Thunberg sarebbe subito messa in galera in teoria è possibile tutto questo nel senso che è vero che tutta una serie di temi in Cina comportano poi diciamo una repressione ma l'esempio ambientale è quello sbagliato perché è l'unico ambito quello delle lotte ambientali nelle quali non sono sono state consentite e hanno avuto un grandissimo successo i movimenti ambientalisti in Cina ma è forse la cosa più interessante che abbiamo potuto osservare in Cina negli ultimi dieci anni prima della chiusura del Covid perché ovviamente l'inquinamento in Cina a un certo punto è diventato un problema proprio che percepiva la stessa popolazione ma non è un problema che colpisce la popolazione e non colpisce il funzionario del Partito Comunista è un problema comune nessuno vuole vivere in città inquinate o come dire utilizzare acqua che arriva dove ci sono i scarichi industriali inquinanti o coltivare in terre inquinate e quindi è assolutamente uno degli aspetti più interessanti ci sono state un sacco di battaglie che hanno avuto anche successo sono state chiuse delle fabbriche ci sono stati dei documentari che addirittura sono stati citati dai leader del Partito Comunista poi sono stati magari censurati però intanto lì per lì il messaggio era passato dopo moltissimo tempo c'è un'educazione ambientale che in Asia si sta diffondendo sempre di più in Cina c'è anche un ministro dell'ambiente che non c'era fino a 15 anni fa e quindi insomma e non solo ci sono dei libri che stanno uscendo di storia sulla Cina che rileggono tutta una serie anche di eventi sulla base proprio dei cambiamenti climatici perché il territorio è gigantesco adesso è stato sottoposto a siccità inondazioni tutta una serie di calamità e di eventi naturali che oggi ovviamente vengono riletti alla luce dei cambiamenti climatici e non più perché l'imperatore aveva sbagliato il calendario adesso sto banalizzando però fondamentalmente un po' questo quindi è un tema assolutamente fondamentale importantissimo e ultrasentito poi come al solito non è che in Asia non ci siano delle cose molto simili a quanto accade da noi cioè la società va un po' più veloce in molti casi della politica e questo lo vediamo anche dalle nostre parti per quanto riguarda il discorso della tecnologia o comunque insomma del progresso economico qui c'è la più grande illusione diciamo occidentale rispetto a questo tema cioè gli Stati Uniti negli anni 70 riallacciano i contatti con la Cina la portano mano nella mano praticamente entrare nel 2001 all'interno dell'organizzazione mondiale del commercio con un'assunzione di base che il progresso economico il benessere economico avrebbero portato naturalmente alla democrazia non è così la Cina lo dimostra ma ce ne sono anche tanti altri paesi che lo dimostrano perché in Cina in realtà Deng Xiaoping che passa come il grande riformista e in parte lo è stato nel senso non solo lui in realtà era tutto una squadra diciamo perché molte cose passano per essere solo di Deng Xiaoping ma non erano di Deng Xiaoping ma non fu assolutamente un riformista in termini politici cioè tenne il controllo del partito comunista sui processi anche economici in maniera molto salda attraverso le aziende di Stato attraverso le joint ventures con le quali le aziende cinesi hanno succhiato a know-how a quelle occidentali e con il ritorno degli studenti che arrivavano dall'estero e che hanno portato alla Cina diciamo anche nuove tecniche di management all'interno delle aziende ma all'interno diciamo del perimetro che era stato disegnato sostanzialmente dal partito comunista e su questo avremmo e chiudo perché è diventato di nuovo rosso tra l'altro abbiamo degli esempi incredibili dopo il 1949 con la Cina a terra e nonostante tutte le disgrazie diciamo del periodo che va dal 49 al 76 che è la morte di Mao in realtà la Cina fa dei progressi scientifici incredibili alcuni brutali nel senso in nove anni lancia la prima bomba atomica poi quella termonucleare poi lancia il primo satellite costruisce il primo computer personal computer solo con produzione tecnologica cinese poi arriverà il riso ibrido poi arriveranno le scoperte sulle proteine poi arrivano anche dei Nobel negli anni 60 tutti questi scienziati sono scienziati che fino a poco prima del 1949 stavano in Europa ce ne sono alcuni che come ad esempio quelli che furono poi a capo diciamo dei progetti della bomba atomica che lavoravano con Einstein ok e si diceva addirittura un tempo che solo 12 persone avessero capito veramente che cos'era la teoria della relatività e uno di questi era un cinese questi dopo il 1949 tornano in Cina perché vogliono contribuire alla nascita di una nuova Cina di una nuova società hanno diciamo magari non erano comunisti non erano dei ferventi rivoluzionari ma dopo il secolo delle umiliazioni dicono torno in Cina metto a disposizione del mio paese le mie capacità e hanno portato effettivamente a dei miglioramenti notevoli non solo per i progressi scientifici ma anche nella vita poi delle persone è un po' la stessa cosa che è successo in realtà poi negli anni 90 e il partito comunista ha tenuto il controllo in una maniera che per gran parte della popolazione in quel momento era tutto sommato andava bene nel senso che veniva visto come proprio in maniera un po' paternalista come l'istituzione che metteva le pezze alle cose che non funzionavano bene che tutto sommato comunque faceva quello che anche l'imperatore in epoca imperiale doveva fare cioè garantire il benessere della popolazione poi c'è un'altra cosa basta perché sono più che noi riteniamo sempre che i cinesi siano un po' dei signorsi schiavi che facciano tutto quello che gli dice il partito eccetera non è assolutamente così e lo stesso confucianesimo che passa per una che è in gran parte comunque insomma alcune interpretazioni è una dottrina possiamo dire conservatrice adesso per non voglio banalizzare ma per semplificare in realtà prevede la revoca del mandato nel caso in cui l'imperatore non adempia al suo ruolo che è quello di garantire il benessere alla popolazione l'imperatore può essere fatto fuori quindi questo istinto ribellistico in Cina è molto presente quando ci sono state le proteste a novembre tutti a dire ah incredibile in Cina protestano a Roma ci sarebbe un'espressione per dire eh sì nel senso che lo fanno spessissimo lo fanno tipo 20 o 30 mila volte all'anno il numero adesso è secretato ma li chiamano incidenti di massa cioè ci sono continuamente proteste in Cina semplicemente quella di novembre è una protesta molto diretta in particolare contro la leadership per la questione del covid zero mentre di solito le proteste sono molto locali contro il funzionario corrotto contro la fabbrica che inquina ad esempio moltissime negli anni diciamo inizio anni 2000 erano per lo più per questioni lavorative da metà degli anni 2000 sono quasi sempre proteste per questioni ad esempio legate all'ambiente ovviamente non è una cosa così nota però adesso non risponde direttamente alla tua domanda però per dire che ci sono tutta una serie di nostri pregiudizi o illusioni che poi non trovano la realizzazione in realtà in quello che accade veramente in questi paesi fine perdonatemi la lunghezza grazie a Simone Pieranni grazie a Cecilia Sala e grazie a tutti voi grazie a tutti 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 grazie a tutti